Si può guarire o curarsi con una buona aspettativa di vita quando si ha la malattia di Valdestrom? E sempre rispetto a questa malattia vorrei una spiegazione dei nuovi farmaci per curarla. Lascierei la parola a Sofia Kovalchuk, o anche ad altri che vogliono intervenire. Scusate, non potete riparare. Ci chiedono se chi ha il Valdestrom e ha come complianza, cioè associata anche un'anemia emolitica, ha una buona aspettativa di vita e come curarsi. E poi vorrebbero delle spiegazioni più precise sui nuovi farmaci, quindi sul tipo zona brutine, i visori di BTK. Allora, il linfoma di Valdestrom, come abbiamo detto prima, è un linfoma indolente e all'esordio a volte resta sintomatico, quindi non richiede nessun tipo di trattamento. Molto spesso comporta anemia, può essere anemia da infiltrazione midollare oppure più raramente anemia emolitica. In questo caso, considerando i sintomi di malattia, va intrapreso un trattamento specifico che è molto cambiato negli ultimi anni. E appunto adesso abbiamo anche la possibilità di usare inibitori BTK. Abbiamo varie formulazioni, dalla prima generazione ai farmaci più nuovi come zanobrutinib, che ha un profilo di tossicità decisamente migliore, con meno rischio di patologie cardiovascolari. Grazie. Grazie.